La Repubblica delle biciclette Tappone Dolomitico, chi ha ambizione di classifica venga in testa al gruppo Chi ha compiti per il proprio capitano venga davanti a guidare il gruppo Tutti gli altri rompete le righe Ragazzi andiamo fuori tempo Massimo dai Ma sei mio amico o no? Allora aiutami Dai ragazzi andiamo fuori tempo Massimo Piano Piano Oh fenomeno Se ne avevi andati con quelli davanti eh Fai furbo Oh ma dove sta il baffo? Il baffo è la... Ma non ha il baffo? Ma non vedi questo Ma che è il baffo Vieni vieni così sono buoni tutti Ho capito È arrivato questo È arrivato Ma che cazzo da me lì che ti è arrivato? Tu li hai il baffo dai Ma che fai? Ma guarda qui Ma quando l'ha arrivato? È vero ho capito ma allora Ho tempo, ho tempo ragazzi Piano Ho detto piano La Repubblica Delle biciclette La Repubblica La Repubblica Delle biciclette La Repubblica La Repubblica La Repubblica Delle biciclette